Rami, foglie, fiori. Rami, colori. Frutti. L'albero. Albero. Albero. Foglie. Foglie. Bianche. Albero. Albero. Tronco. I rami dell'albero. Foglie. Tronco d'albero. Natura. Albero. Foglie, fiori, unione. Aria. Alberi, rami della vita. Il mondo sia un ramo unico. Per me radici è, penso, la partenza. Perché dico la partenza è tutto. Perché senza una radice penso che non starebbe in piedi un albero. È l'arbero. Sotto dell'arbero. Base. Perché le radici sono la base da cui si parte. Identità culturale. Penso alle mie origini, alla mia famiglia, alle persone che ho incontrato, alla mia terra e alle esperienze che ho vissuto. Le mie radici sono in Africa. Le mie radici sono in Italia. In questo momento qui. Io vengo dal Mali. Sono bergamasco di natura. Per essere sincero, ho la Bolivia nel mio cuore. Le mie radici sono il posto in cui sono nata, il mio paese, la mia comunità. Mi piace spostare le radici ovunque vado. Cerco sempre di estendere quelle che sono le mie radici, aggiungere altri riferimenti culturali ai miei. E mi piace sradicare le radici a volte. Se mi dici vita ti dico bella. La vita bella. La vita bella, caraggiosa. Amore, speranza. Speranza. Vita. 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 Prendi sicura. Amare. Prendi sicura delle persone. Di stare vicino. Aiutare le persone bisognose. Avere tanta umanità. E metterti nei panni di quello che hai avanti. Il mio sogno è fare la dottoressa. Il mio desiderio è di essere una cantante. Il mio desiderio sarebbe diventare una ballerina bravissima. Sognare mi piace andare sempre nell'arcovaleno a fare uno scivolo. Ne ho tanti gli sogni. Ne ho tanti. Tanti sogni. Felicità per sempre. Ma il mio sogno è fare una famiglia, vivere con la mia famiglia. Avere una famiglia quando divento grande. Partire di nuovo per la Bolivia, perché io là ho lasciato il mio cuore e voglio riprendermelo. Di essere una persona come altri. A fare qualcosa, a lavorare, per essere libero come altre persone. Il mio sogno è che i poveri non esistano, che siano più normali, perché quando li vedo mi sento in pena. Tutti i ragazzi sono lì. Non sono ricchi, non sono poveri, non sono poveri. Tutti i livelli. Il mio sogno è che tutto il mondo vive in pace. Desidero che le persone imparino a incontrarsi, a conoscersi e ad essere mentalmente aperte nell'incontro con l'altro. Che tutti stessero bene, che tutti abbiano da mangiare, che nessuno perda la casa. Che stiano bene tutti, sia la mia famiglia, tutte le persone da questo mondo. Che siano felici. Basta, tutto lì. Volo! Nella libertà. Sole. Aria. Mongolfiero. Girare il mondo. Cantare fino a volare. Uccello che spero che non si fermerà mai. Libertà. È una parola molto grossa, ripartire, no? Ricominciare, rimettersi in gioco. Ricominciare. Andare. Riandare. Ritornare. Ripartire per andare ancora. Quando pronta, riparto. Rifare, aiutare, darsi da fare. Cioè, tutte quelle cose che aiutano alla ripartenza. Tornare indietro, no. Andare avanti. Ripartire. Noi sarebbe bello di tornare, ripartire. È faticoso ripartire. Penso che ripartire sia una componente essenziale per ogni persona che vuole mettersi in discussione e camminare e fare strada. Se mettiamo ognuno di noi un pezzettino, si arriva a un qualcosa dopo. De positivo, ecco. Ripartiamo veramente alla grande. Immagino oltre, oltre l'orizzonte, un presente, al di là del monte, leggero, fluisce il mare, dove prima o poi si impara a volare. Immagino oltre l'orizzonte, un presente al di là del monte, leggero, fluisce il mare, dove prima o poi si impara a volare. Immagino oltre l'orizzonte, un presente al di là del monte. Immagino oltre l'orizzonte, un presente al di là del monte. Immagino oltre l'orizzonte, un presente al di là del monte. Grazie a tutti.